Siamo qui pronte noi finta influencer, mamma, finta influencer Vedi che mi manca il cucchiaio d'olio Vado? Oh no, yes! Anche perché noi faremo una pizza, la facciamo e poi facciamo anche vedere effettivamente, non che facciamo la foto con la pizza con tutte le fette, una in mano che vola noi la mangeremo effettivamente, taglieremo e mangeremo tutta la nostra pizza Come si fa? Ma vabbè Ecco, abbiamo deciso solo peperoni, pomodorini, olio d'oliva, un po' di peperoncino ovviamente Allora, ovviamente è troppo calda, ma adesso la mangeremo anche noi La mangeremo per davvero, vero? Ma certo, scusa, perché l'avremmo fatta se no? Ah, non vuoi fare quella cosa dell'influencer dove facciamo finta? No, ma bisogna anche viverla la vita e non fare finta Avete capito, influencers? Vedete se è buona questa... Aspetta! Ma che fai? È la pizza che si rigenera, come non può essere Buonissima Dai, dire la verità, l'abbiamo fatta noi To La nostra non si rigenera No, la nostra si mangia il pasta, amore Ecco, vedi? Mamma, ma ecco, mamma, dobbiamo andare perché ci aspettano a Milano Sì, arrivo, sto prendendo la borsa Ma che cos'è? Che ti sei presa? Ho preso questa borsa che deve che carina Che carina No, ma che stai scherzando? No, aspetta, fermi il video, stupido Scusa, mamma, ma che cazzo hai fatto? Ho preso questa borsa 120 mila euro per me Mamma, ma che sei pazza? L'ho presa da Amazon Ah, infatti, non sa di Pelle Morta No, hai finta E quanto hai spesa? 90 euro 82 qualcosa Madonna, una mamma intelligente, super consapevole, guys Because we do not waste money on dead animals Ma poi mi piaceva tanto, è così Non ho fatto male a nessuno Dai, andiamo a Milano Qui con la mamma e la sua super borsa Fai vedere, per favore, in ecco Pelle Ma è di Ernest? No Siamo qui, io e la mamma, madre e figlia E abbiamo avuto un incontro importante oggi Con un'altra mamma e un'altra figlia Siamo qui con Victoria E la piccola Giulia di cui si è parlato molto Adesso però non se ne parla più Perché queste notizie escono fuori Poi puff, spariscono E allora io e la mamma invece Che siamo impegnate a dar voce a chi non ce l'ha E facciamo riuscire Ed eccoci qui a pranzo con Giulia e Victoria Mamma Ma sei con un'altra mamma? Ma sei con un'altra mamma? Vittoria! Vedi che è una bellissima mamma Vero? Grazie Ma ci sono anche le figlie però Una sono io E tutte e due siete meravigliose Ed ecco qua Finalmente dopo tanto tempo ci siamo riusciti a vedere Con la Giulia Mamma ma hai fatto il fit check? Scuola i piedi? Sì Com'è? Amore lo faccio tutti i giorni perché amo le scarpe Tu l'hai fatto il fit check oggi? Sì stamattina ho controllato bene E tu l'hai fatto il fit check? Era tutto a posto? Giulia ma la Chiara l'ha fatta? No No Fit check Fit check Chiara Com'è? Fit check Grazie